Salve C'è nessuno Vorrei contattare qualcuno Senatori, noi crediamo che questi titani Siano solo la punta dell'iceberg Quali di questi titani Sono qui per proteggerci E quali di questi titani Sono una minaccia Quindi vorrebbe fare di Godzilla Il nostro animaletto No Noi saremo i suoi Sei sicuro Sono sicuro che starà bene Sono ovunque Combattono per il predominio Un avversario alfa di Godzilla Stai scherzando Oh god Oh god